I consiglieri comunali della democrazia cristiana di Agrigento chiedono la dimissione del sindaco per via del rimpasso fotocopia. Il sindaco intanto si impegna a sensibilizzare il neossessore Savarino alla progettazione delle barriere soffolte nel mare delle Dune a San Leone. Miglioramento dei turni idici a Favara dopo l'utilizzo dei nuovi pozzi incontrati a Piana Traversa. Catturato dalla Guardia di Finanza in Tunisia il latitante Boss Stracuzzi contiguo alla mafia grigentina. Domani rappresentazione trattata al caos con la giara di Pierandello. Ad Aragona appuntamento con il Blues & Wine di Gio Cassellano. Amichevole dell'Acragas con la Folgore, ampia vittoria per Serreti a zero, doppietta di Di Stefano. Buongiorno con il nuovo appuntamento del nostro telegiornale TVA Notizie, la democrazia cristiana di Agrigento presente al Consiglio Comunale e contro la reintegrata giunta varata dal sindaco Micichè. Ne chiederemo le dimissioni. Per ciò che riguarda la democrazia cristiana che chiede le dimissioni del sindaco di Agrigento, il percorso della nuova vecchia giunta Micichè potrebbe essere molto difficoltoso. Secondo i consiglieri comunali, Bongiovì, Spataro, Vitellaro e Zicari, la segreteria cittadina del partito, Il sindaco, afferma una nota, ancora una volta ha perso un'occasione per redimersi. 14 giorni fa ha zerato la giunta per rilanciare l'azione amministrativa e ieri ha rinominato le stesse identiche persone presentandosi alla città come se nulla fosse successo, azzoppando la macchina amministrativa per due lunghe settimane in un momento delicato come quello che stiamo vivendo. Le due delibere di azzeramento della giunta e di riconferma della stessa dimostrano chiaramente che il sindaco Micichè è capace di contraddire se stesso in pochi giorni, dice il gruppo DC. Questo significa mortificare gli stessi cittadini che lo hanno eletto, offendere le loro intelligenze e poi rincarano la dose. Questo sindaco è inadeguato al ruolo, manca di una chiara e lucida visione politica e si vive alla giornata. Proprio per queste motivazioni, continuano i consiglieri, è nostro dovere chiedere le dimissioni del sindaco prima che si verifichino ulteriori situazioni imbarazzanti per il nome della città. Saremmo capitale della cultura e dobbiamo smetterla con le situazioni ridicole e pirandelliane che gettano discredito sulla città. La democrazia cristiana, conclude la nota, verificherà se in aula ci sono le condizioni per una formale emozione di sfiducia, quando è troppo è troppo. Vediamo se esiste ancora la politica in città e cosa ha da dire in merito a questo teatrino. Il sindaco di Agrigento in occasione della presentazione della giunta in risposta a una nostra domanda sull'insediamento del nuovo assessore al territorio ambiente, Giussi Savarino, ha dichiarato che si impegnerà a sollecitare al nuovo assessore la progettazione delle barriere soffolte da realizzare nel male di San Leone alle Dune. Sentiamo l'intervista al primo cittadino. Ecco, la città di Agrigento, la provincia di Agrigento, ha un nuovo assessore che è l'onorevole Savarino, per cui è un valore aggiunto per la nostra città. Il territorio ambiente è una delega molto importante. Un suo commento? Sì, è un valore aggiunto. Già io mi sono sentito con l'assessore Giussi Savarino, è una grigentina, è una che tiene tantissimo al nostro territorio. Già ho preso i primi contatti con lei. Il primo intervento che faremo insieme io e la città di Savarino sarà la realizzazione della progettazione delle barriere soffolte che si devono realizzare nel viale delle Dune per evitare che il litorale durante le maneggiate invernali, ma anche estive, possa venire ulteriormente danneggiato e raso assurdo. Abbiamo visto che domenica 3-4 persone sono andate in ospedale proprio per... Sì, purtroppo c'è il divento di bannazione, c'erano anche cartelle esposte, è il genere che magari non è senta che l'ingentina non conosce magari il territorio. Quindi possiamo annunciare che finalmente queste barriere soffolte... Possiamo annunciare, dobbiamo realizzare... C'è in ogni caso un'intenzione di fare queste barriere soffolte... Il problema di Savarino è disponibile a attivarsi per il nostro territorio, quindi penso che gli ostacoli non ci saranno. Ci sarà un problema molto economico, ma poi non è un problema mio, deve essere poi l'intera giunta e il Presidente Schipani poi a trovare le risorse. Passiamo alla notizia da Favara, arriva qualche beneficio a Favara dall'utilizzo dei nuovi posti di contrada piano traversa vicino allo stadio, oltre 10 litri di acqua al secondo che hanno consentito ai tecnici dell'Aica di accorciare i turni di distribuzione. Ce ne parla il collega Moscato da Favara. Ha dato qualche risultato positivo, ovvero la diminuzione del lungo lasso di tempo che si era fossilizzato per alcune zone della città in oltre due settimane, l'utilizzo per Favara dell'acqua dei pozzi di piano traversa accanto allo stadio comunale. Questo ed altri accorgimenti, fortemente voluti dal Sindaco Antonio Palumbo, emessi in atto dai tecnici Aica, hanno aumentato la dotazione idrica di Favara di circa 10-15 litri al secondo che, unita alla fornitura tradizionale che arriva dal ripartitore di Aragona, ha aumentato la disponibilità giornaliera e di conseguenza diminuito i giorni tra un turno e l'altro. Un leggero miglioramento, non certo acqua corrente, che ha consentito ad Aica di programmare i turni in circa 10 giorni, con la possibilità, nei prossimi giorni, almeno si spera, di scendere anche ad 8 giorni. Si cercano intanto altre fonti di approvvigionamento, ovvero l'utilizzo di nuovi pozzi nel territorio di Favara tramite il ripristino di vecchi che non sono più utilizzati o la ricerca di nuovi. La crisi è sempre in atto e l'emergenza è tutt'altro che superata, ne siamo consapevoli, ma per chi, come i cittadini di Favara, ricevono acqua nelle loro abitazioni con una tornazione di 15-16 giorni, constatare che adesso c'è un leggero miglioramento fa ben sperare. Ma sentiamo il sindaco Antonio Palumbo che abbiamo raggiunto telefonicamente proprio mentre stava effettuando un sopralluogo al serbatoio di via Cartesio per verificare la portata d'acqua in ingresso. Sì, cogliamo i primi risultati positivi del lavoro fatto in questi mesi perché grazie all'introduzione dell'acqua del Pozzo e a una serie di manovre come fatte su tutta la condotta voltano siamo riusciti ad assorbire in dando le varie rotture o i guasti che ci sono stati in questi giorni e non facendoli sentire sull'utenza, sui cittadini. E poi addirittura stiamo in alcune zone soprattutto passando da due settimane 15 giorni, volte anche più siamo scesi a 10-8 giorni. La speranza è quella di poter continuare con questo trend positivo e diminuire ancora i turni. Tutto sempre è dovuto anche all'acqua che continuerà ad arrivare dalla condotta principale dal partitore d'Aragona ma se rimane un approvvigionamento costante non ci sono altri problemi speriamo nel giro di qualche settimana anche prima di iniziare ad avere turni nella normalità che non sono normali ma purtroppo dalle nostre parti sì l'obiettivo è quello di mettere in rete nuovi fondi stiamo lavorando all'apertura di altri pozzi al riutilizzo di pozzi che sono sparsi per la provincia questo per dare sempre più acqua alla nostra città e permetterci di ridurre ulteriormente i turni. Più acqua per salvare l'agricoltura del comprensorio ribarese lo chiedono a gran voce i sindaci ma c'è il no della cabina di regia il servizio. Almeno un milione di metri cubi dalla diga Castello e 500 mila dalla diga di Prezi per garantire la seconda irrigazione pronti ad azioni forti per scongiurare la catastrofe economica dei nostri territori. Questa è la forte richiesta dei sindaci della Riberese dopo la riunione che si è tenuta con la cabina di regia presso il Dipartimento Acqua e Rifiuti alla presenza dell'assessore Roberto Di Mauro. Erano presenti i sindaci di Ribera Bivona Lucca Sicula e Montallegro Dai calcoli dei tecnici del Dipartimento si è avuta la disponibilità di soltanto 400 mila metri cubi di acqua ad uso e rivo dalla diga Castello mentre nessun volume è stato reso disponibile dalla diga Raia di Prezi. Il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo all'unisono con i sindaci presenti ha ribadito con forza che a fronte di 5 milioni e 900 mila metri cubi presenti nella diga Castello almeno un milione e 200 mila devono essere assegnati ad uso in rivo atteso che per l'uso potabile un milione e mezzo sono già stati messi in salvaguardia fino a dicembre. Negativa è stata al momento la replica dei dirigenti secondo i quali i volumi di salvaguardia devono essere accantonati fino a febbraio 2025. Il sindaco di Ribera con i colleghi dei territori interessati ha rimarcato che a fronte del dubbio sulle possibili precipitazioni si ha invece l'assoluta certezza che l'agricoltura nel nostro territorio senza una irrigazione nei prossimi giorni è condannata a morte in tempi brevi. Pertanto è perentoria e inderogabile l'ennesima richiesta di disponibilità di almeno 1.200.000 metri cubi per uso irriguo dalla diga Castello. In questo momento qualsiasi altra iniziativa passa in secondo piano. Secondo il sindaco è necessario e urgente salvare 6.000 ettari di agrometri e le aziende agricole del territorio per evitare di lasciare morire l'economia del comprensorio con le conseguenze economico-sociali che ne deriverebbero compresi possibili disordini di ordine pubblico. La guardia di finanza cattura in Tunisia il ricercato Angelo Salvatore Stracuzzi contigo alla mafia agrigentina. Il nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo GICO sotto la direzione della locale procura della Repubblica e direzione distrettuale antimafia attraverso il canale di cooperazione internazionale Interpol ha tratto in arresto ad Amamette in Tunisia Angelo Salvatore Stracuzzi destinatario in Italia di misura cautelare personale in carcere in ordine ai reati di trasferimento fraudolento di valori nonché di turbata libertà degli incanti e distorsione aggravati dal metodo mafioso. In relazione alla posizione dell'interessato in attesa del giudizio definitivo vige il principio della presunzione di innocenza Stracuzzi in passato era stato già colpito da sequestro di prevenzione patrimoniale e dalla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza perché ritenuto contiguo a cosa nostra agrigentina in tale contesto in particolare era emerso un ruolo attivo dello stesso in seno ad una realtà imprenditoriale organica all'articolazione mafiosa delicata il provvedimento cautelare cui ora è stata data esecuzione era stato emesso dal tribunale di Palermo in relazione ad alcuni episodi di estorsione ai danni di imprenditori dell'agrigentino finalizzati ad accaparrarsi fabbricati e terreni oggetto di aste giudiziarie da tempo il ricercato aveva fatto perdere le sue tracce sul territorio nazionale la cattura è avvenuta ad opera della brigade criminella della polizia tunisina nel quadro di un'azione sviluppata in costante raccordo con il nucleo di polizia della finanza l'attività conferma il perdurante impegno della guardia di finanza nello svolgimento di indagini delegate dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo nonché l'efficacia e l'incisività dei canali di cooperazione internazionale strumenti irrinunciabili per combattere le mafie e le organizzazioni criminali più strutturate in una nota stampa il cartello sociale plaudi alla scelta di vietare un concerto da parte del questore di Agrigento in relazione a un cantante che si esprime contro i pentiti merita un plauso perché si tratta di una misura che viene adottata per garantire l'ordine pubblico la sicurezza e dare un segnale chiaro a chi non vuole far passare messaggi di solidarietà alla mafia i pentiti affermano i rappresentanti del cartello sociale sono persone che hanno deciso di collaborare con la giustizia spesso provenienti dal mondo del crimine che forniscono informazioni cruciali e quindi risultano fondamentali per combattere la criminalità organizzata al questore Tommaso Palumbo rivolgiamo a ferme cartello sociale il nostro più vivo apprezzamento per una decisione che ha una grande valenza anche da un punto di vista culturale che sottolinea l'importanza della lotta contro la mafia e del sossegno alla legalità tenuto conto che la protezione dei pentiti è considerata essenziale per il successo delle operazioni antimafia in arrivo un nuovo finanziamento di 100.000 euro per la manutenzione stradale a Ioppolo Giancazio il sindaco di Ioppolo Giancazio Domenico Migliara con grande soddisfazione ha annunciato che la sua amministrazione ha ottenuto il finanziamento regionale di 100.000 euro per la manutenzione stradale questo risultato straordinario afferma Migliara rappresenta un importante riconoscimento del nostro impegno costante per migliorare la sicurezza e la qualità delle infrastrutture locali desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine al capogruppo all'ARS del Partito Democratico onorevole Michele Catanzaro in un contesto in cui la classe dirigente si è spesso mostrata sorda alle nostre richieste l'onorevole Catanzaro ha dimostrato impegno ed edizione concreta afferma Migliara facendosi portavoce delle nostre istanze il finanziamento permetterà di intervenire su via Piemonte contrada Passo Aragona contrada Maiorcante migliorando la viabilità e riducendo alcuni disagi per i cittadini continuiamo a lavorare con impegno e determinazione conclude il sindaco per il bene del nostro comune certi che insieme possiamo costruire un futuro migliore per tutti aumenta il divario tra il nord sempre più ricco e il sud sempre più povero l'approfondimento in questa corrispondenza dei colleghi da Trapani il gap tra nord e sud continua ad essere sempre più allarmante questo è quanto emerge dall'ultimo rapporto demoscopica nonostante segnali di crescita economica nel mezzogiorno e il divario in termini di reddito sanità speranza di vita e povertà rimane un ostacolo rilevante la pandemia e la crisi ucraina hanno sicuramente accentuato questa grande disuguaglianza sebbene tutte le aree del paese abbiano subito delle perdite nonostante si siano registrati miglioramenti nel mercato del lavoro e il tasso di occupazione nel nord è del 69.4% rispetto alla 48.2 del sud mentre la disoccupazione del 4.6% nel nord contro il 14% nel mezzogiorno se non affrontato con urgenza il divario rischio di trasformarsi in una frattura che farà crollare le fondamenta economiche e sociali dell'Italia ampliando ulteriormente le disuguaglianze così la CGL Sicilia che lancia anche l'allarme la speranza di vita nel mezzogiorno inferiore di 1.6 anni rispetto al nord un divario aumentato rispetto all'1.1 del 2013 nel settore sanitario la qualità e gli investimenti sono maggiori nel nord con un divario che è passato da 57.2 punti nel 2017 a 68.3 nel 2022 il PIL pro capite nel nord anche lì ha aumentato rispetto qualche anno fa mentre nel sud è cresciuto di pochi punti percentuale in Sicilia in totale il 27% delle famiglie vive in condizioni di povertà una condizione strettamente legata a modelli di consumo non necessariamente corrispondenti ai livelli di reddito in tutti i settori e su tutti i fronti quindi imprese lavoratori e giovani hanno affrontato e stanno affrontando oggi la crisi solo qualche mese fa era stata proprio la CGL a dare l'allarme facendo una stima di circa 250.000 lavoratori sotto la soglia di povertà si tratta di persone che pur avendo una occupazione non riescono a far fronte ai bisogni di prima necessità e di conseguenza a quelle delle proprie famiglie e così la CGL Sicilia in una nota sottolinea che determinare questa situazione sono più fattori la precarietà l'utilizzo di contratti non standard del part time involontario la non continuità lavorativa il mancato rinnovo dei contratti nazionali la bassa offerta di lavoro anche l'Istat nel rapporto annuale 2024 ha certificato quanto sia vulnerabile la condizione dei lavoratori in Sicilia proprio a causa di dinamiche dei prezzi che hanno eroso il potere d'acquisto in più la Sicilia osserva il segretario generale della CGL regionale Alfio Mannino non cresce neanche in termini di PIL segnaliamo da anni dice il problema che non solo ma anche il lavoro qui con quote di disoccupazione soprattutto giovanile femminile altissime ma quello che c'è è il lavoro povero precario sfruttato e insicuro con 16 morti sul lavoro solo quest'anno vogliamo innalzare dice così Mannino le tutele contro i licenziamenti illegittimi anche per chi opera nelle piccole imprese per ridurre questo divario sottolinea demoscopica potrebbero essere utili politiche di sviluppo economico mirate come l'attrazione di investimenti e il supporto alla imprenditorialità nel mezzogiorno i numeri sono sempre negativi anche quando si parla di sanità in Italia sono 1.6 milioni le famiglie in povertà sanitaria circa il 6% in totale di questi numeri 700.000 abitano al sud il 6.3% proprio in Sicilia lo stesso assessorato regionale alle politiche sociali ha finanziato 76 milioni con il fondo povertà destinati ai distretti sociosanitari per l'implementazione dell'assegno di inclusione fondi che il ministerio del lavoro ha destinato alla Sicilia per il piano di attuazione locale il cosiddetto PAL l'assessorato attraverso il dipartimento regionale per la famiglia e le politiche sociali supporterà i distretti nella fase di programmazione valuterà la coerenza dei PAL rispetto al piano regionale per la lotta la povertà 2021-2023 i numeri dunque sono drammatici non si può di certo parlare di benessere che sembra ancora molto molto lontano soprattutto in Sicilia a Real Monte grande successo per il primo DJ Contest appuntamento alla finale in programma il prossimo 4 settembre le interviste al sindaco e ai protagonisti prima edizione del DJ Contest prima serata che apre appunto questa competizione perché sarà una vera e propria competizione che porterà insomma un primo classificato e ad altri e ci saranno dei premi chiaramente che sono stati sponsorizzati dalla Real Marina e dai Talcali che dire io sono molto soddisfatta e per questo ringrazio il mio responsabile d'aria Pietro Caruana che con me ha pensato di svecchiare un poco la piazza e di fare delle attività su misura dei ragazzi e questo è un esempio questa sera la piazza è gremita di gente c'è quello spirito sano di competizione che ci piace dove insomma il talento sicuramente farà la differenza e dove ancora una volta Real Monte potrà dire Real Monte c'è sempre più nella via della bellezza per questo risultato ringrazio ovviamente il mio responsabile d'aria Pietro Caruana appunto tutti i responsabili che sono anche i direttori nelle loro attività che sono Marco Gallo Luciano Carrubba Franco Di Salvo e Sal Di Betta oltre a tutti gli altri un ringraziamento particolare lo faccio all'ufficio Costa Bianca capitanato dall'architetto Vella e dal geometra Cottone e che dire ancora una volta la squadra vince ringrazio ovviamente le forze dell'ordine i vigili urbani e la collettività tutta i cittadini che sono il nostro cuore pulsante ringrazio altresì i consiglieri gli assessori la giunta che è sempre presente noi siamo una squadra e in particolare voglio ringraziare il vicepresidente del consiglio Pasquale Valenti che devo dire mi ha dato una grande mano nella gestione delle attività amministrative è un ragazzo insomma che si è speso per i ragazzi il primo DJ contest real mondo città della scala dei turchi vuole essere un aprire ai giovani un progetto pilota che ci ha dato grandi soddisfazioni grande partecipazione grandi iscritti alcuni di questi già li abbiamo opzionati per l'anno prossimo per fare la seconda edizione prima selezione oggi ciò significa il 6 agosto il 4 settembre faremo la finale che si svolgerà tra 5 ragazzi tutti emergenti in questo mondo cosa vogliamo fare al mondo? vogliamo una volta per tutti aprire ai giovani far capire che venire qua non significa solo la nostra grande scala dei turchi ma trovare un divertimento e un modo per distrarsi si terrà domani il 9 agosto la rappresentazione teatrale a Giara di Pirandello al piazzale Caos realizzata dall'associazione Concordia l'intervista ad alcuni dei protagonisti domani 9 agosto a Giara al Parco Caos Pirandello parliamone? allora domani sera ci auguriamo di avere un pubblico numeroso perché andiamo a replicare un classico pirandelliano che è la Giara di Pirandello per cui in una dove c'è qualche cosa di particolare in cui si dà anche una valenza a quella che è il valore dell'amore nella vita di ogni uomo e quindi diamo un'anima anche a un Don Lollò che è risaputo e scorbutico e altro io ringrazio innanzitutto tutti gli attori che mi stanno collaborando in questa avventura ma principalmente persone che mi stanno supportando in una maniera valida quale Uzzid Dima Alfio Russo che è anche il direttore artistico della rappresentazione e l'aiuto che mi stanno dando anche nella regia nel sistema dei servizi o altro perché doveva fare Don Lollò qualcun altro forse indegnamente o spero di poter di poter rappresentarlo io io sarò il Don Lollò per cui vi passo la parola al Zid Dima un Don Lollò particolare cioè al di fuori di quello che generalmente si vede nella giara un Don Lollò che inizia con una nostalgia del passato e che poi alla fine culminerà con una quasi richiesta all'amata donna che non c'è più è una cosa particolare anche per per l'inserimento nella nello spettacolo di due bambine eccezionali presentiamole l'una che l'altra presentiamole Viola e Arianna Ballacchino due sorelline faranno faranno la loro parte diciamo inserita nel nel contesto della della commedia e le musiche le musiche del Baldagragas danno un tocco particolare della nostra agrigentinità e della nostra sicilianità e loro vi facciamo ascoltare due brevissime parti vai ciuri di rose rosse ciuri di rose rosse allo sbucciari amaro giamukafi mini credi amaro così fa sopraniari lo sciuri paradiso non dividi è un attimo una recitazione fantastica una delle battute delle battute delle battute che fanno della grandissima piccolina Arianna forza mi va a ripa e vostra moglie di come bravissima e sono sicuro che chi assisterà avrà modo di divertirsi e vedere il pirandello che noi conosciamo dove tutto è relativo anche la ragione il torto la decisione della ragione il torto e quindi veniteci a vedere vi divertirete Giovanni Allevi fa tappa da Grigento al Teatro Pirandello il prossimo 8 febbraio 2024 soddisfazione dei vertici della fondazione da domani i biglietti saranno in vendita allo stesso teatro Giovanni Allevi fa tappa al Teatro Pirandello della Città dei Templi per aprire nell'anno di Agrigento Capitale della Cultura il suo tour in Sicilia che oltre al Pirandello toccherà anche Palermo e Catania sabato 8 febbraio è atteso lo spettacolo del Piano Solo Tour con oltre 80 minuti di musica al pianoforte la prevendita sarà su scala nazionale nei circuiti online di Ticket One soddisfazione del presidente della fondazione Teatro Pirandello Alessandro Patti che ha annunciato la data quando abbiamo saputo che potevamo avere Allevi al Pirandello abbiamo insistito affinché avvenisse con l'inizio di Agrigento 2025 e crediamo che sarà uno dei grandi eventi dell'anno di Capitale della Cultura sappiamo fa sapere il direttore Salvo Prestia che avremmo potuto riempire uno stadio ma come sapete abbiamo appena 500 posti al Pirandello per cui vi invitiamo a fare attenzione alla data in cui i biglietti verranno messi in vendita dal circuito nazionale di Ticket One che ha l'esclusiva perché siamo certi saranno esauriti in poco tempo linea della regia per la pubblicità appuntamento con il Blues & Wine Soul Festival di Gio Castellano ad Aragona ha seguito per noi l'evento Giuseppe Moscato Blues & Wine Gio Castellano Super Band anche per la stagione 2024 è già iniziata oggi siamo qui nella tenuta del Principe ad Aragona che Blues & Wine è quest'anno? Inverniato su un libro un libro che uscirà a dicembre che riscrive la storia del vino siciliano soprattutto del nero d'avo infatti quest'anno ho scelto solamente tappe che rientrano nell'areale storico del nero d'avola a Grigento quindi Real Monte il Madison Aragona stasera poi ci saranno Piazza Armerina e Serra di Falco cioè tutto quello che era il vero areale del nero d'avola che non era per niente di avola ma veniva proprio da qui e al Wine ci è abbinato naturalmente il Blues da sempre è nato così quindi non può essere diversamente 22 anni quindi 22esima edizione per 31 anni di band quindi oggi con la band festeggiamo ben il 31esimo compleanno quindi insomma è una band che ha fatto storia non solo in Italia visto che in America fortunatamente è cosannata dai più grandi artisti americani del soul e del blues c'è sempre una special guest quest'anno Corey Thompson un grande cantante del North Carolina un vero baritonale uno che canta ancora alla Barry White o alla Teddy Pendergrass per dirne due grandissimi ma quello che esprime veramente il soul il migliore soul mondiale è questo dove purtroppo invece negli ultimi tempi l'hip hop o altri generi come il rap hanno un po' deviato la musica when the night is gone the land is dark and the moon the only light will see no be afraid no be afraid to sing along il principe di Aragona ospita stasera una tappa del blues and wine di Joe Castellano un accoppiamento appunto tra musica e vino ma in questo caso anche con il principe olio sì stasera abbiamo voluto stasera con Joe Castellano è la seconda edizione l'anno scorso è stata riuscitissima anche stasera vedo che gli ospiti hanno gradito tantissimo sia vini che l'olio noi ecco siamo un'azienda produttrice di olio quindi la serata oltre ad essere dedicata al vino è dedicata anche all'olio cerchiamo di comunque diffondere quello che è il buon guscio quelle che sono le nostre arti culinarie quelle che sono i nostri prodotti che sono inviliati in tutto il mondo è una eccellenza del territorio che sposa un'altra ovvero la musica il vino l'olio la musica il vino e l'olio si sposano benissimo in tutte le pietanze diciamo quindi in qualsiasi dieta mediterranea viene accoppiata sempre dall'olio dal vino e dalla buona musica quindi dobbiamo continuare queste tradizioni tramandarle comunque portarle avanti e farle conoscere nel mondo non possiamo non parlare con un produttore di quella che sarà l'annata la prossima annata questo caldo eccessivo ha fatto bene ha fatto male questo caldo eccessivo in questo momento diciamo che favorisce la qualità in quanto non ci sono assolutamente attacchi di mosca quindi l'oliva è totalmente integra però speriamo che arrivi qualche pioggia perché gli dia un pochettino di vitalità perché le olive stanno iniziando ad appassire con il forte caldo percorso gastronomico e percorso culturale può essere anche un volano per il turismo? ma io ci credo tantissimo perché il percorso gastronomico e il percorso culturale è il veicolo più importante che noi abbiamo nella nostra Sicilia perché la Sicilia è la cunda della cultura dell'arte e anche del buon gusto è la città Grazie a tutti. E si svolta a Montevago nell'ambito delle manifestazioni estive la notte gialla 2024 con il taglio di una mega torta a base di limone a cura degli chef del re Sostadler inserite nel quadro della festa di San Domenico. Sentiamo una dichiarazione del sindaco di Montevago, onorevole Margherita Larrocca Ruvolo. Grazie a tutti. In maniera con la notte gialla dove al centro c'è il limone, quindi hanno organizzato tutto con questo ingrediente principale, dalla salsiccia al dolce. E devo dire che c'è tanta gente, c'è anche la presentazione di un lavoro fatto dalla Cotulevi e quindi anche questo è un momento importante perché lo sportello antiviolenza Diana che ha sede nel nostro comune ha lavorato tanto in questi ultimi 8 anni e oggi stanno facendo un po' il punto di questa attività sul territorio. E dall'altro lato domani continueranno i festeggiamenti perché è San Domenico con la Messa Solenne e la processione, però devo dire avere pensato di organizzare la festa su più giorni è stata un'ottima idea e la riuscita è stata soddisfacente, anzi direi più che soddisfacente. E si sono conclusi a Bagheria i festeggiamenti in onore al santo patrono San Giuseppe ad esibirsi anche lo showman Nino Frassica. Questa sera canteremo le più belle canzoni degli anni 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Daremo la precedenza alla musica beat perché è la musica nostra, ma la musica beat è nata in Sicilia con la canzone Beat in a Crozio. Come concilia questi due amori, queste due passioni? Sono i due veri amori miei, il primo è la musica, nonostante io faccia l'attore e poi faccio l'attore scherzo e canto, sto con loro e conveniamo una festa che poi improvvisiamo, molta parte improvvisata. Io praticamente da artigiano vado dove mi chiamo e quindi cerco di andare avanti, ma tutto questo ancora altri 30 anni poi mi godo la pensione. Dicono che sono solo, dicono che sono solo, dicono che sono solo, solo cazzo nette, non mettete niente tre che sono solo, solo cazzo nette. A proposito dei prossimi 30 anni ci sono progetti che bollono in pentola? Adesso, secondo me ho fatto film, cinema, fiction, mi fermo per 18 anni, per 18 anni mi fermo per non inflazionarmi, perché se no dici, ma che si è sempre questo, sempre frase, sempre diventato, come dite voi in Sicilia, o per russino, come si dice in siciliano? Purtroppo in siciliano non lo sono scordato, che abita a Roma e quindi non so dire, una volta sapevo dire bedru, bedru, adesso non lo so dire più. Ma dico bedru, bedru, perché sto a Roma e sto perdendo però ho intenzione in questi 18 anni di tornare qua in Sicilia. Bagheria è la più bella città della Sicilia, la Sicilia è la più bella regione d'Italia. Bagheria è la prima volta? No, sono venuto altre volte, l'ho trovata molto più bella, non so che è successo, ma è molto più bella di quando me la ricordo io, che era bella. Complimenti, complimenti, complimenti. Esodo e contro esodo estivo, anche Messina deve gestire il traffico intenso, si punta a mitigare i disagi per il massiccio flusso di spostamenti di questo fine settimana, che è segnalato dal bollino nero. In prefettura Messina si è riunito il comitato operativo viabilità COV, un incontro tra forze dell'ordine, istituzioni ed enti. Tra le misure adottate, sospensione dei cantieri, vigilanza e informazione costante per chi viaggia, più controlli delle forze dell'ordine e più traghetti. La percorribilità delle arterie autostradali della provincia è stata oggetto di specifica valutazione e al riguardo il Consorzio Autostrade Siciliane ha assicurato che sta procedendo alla sospensione di tutti i cantieri ammovibili. Per quanto riguarda i quattro cantieri inammovibili in ambito provinciale è stato richiesto un monitoraggio continuo. Nel contempo è stata evidenziata l'esigenza che vengano attivati i presidi antincendio per garantire una cornice di sicurezza. Il CAS ha anche confermato il rispetto del cronoprogramma che interessa l'assetto viario del viadotto ritiro e la tangenziale Messina Villafranca, i cui lavori dovrebbero terminare il 9 agosto prossimo. Anche ANAS ha assicurato l'eliminazione dei cantieri ammovibili e il monitoraggio delle arterie di propria competenza. È stata concordata un'intensificazione dei servizi a cura della polizia stradale. A tale riguardo si rinnova l'invito agli utenti della strada a improntare le condotte di guida al principio di autoresponsabilità e tutela dell'incolumità personale e collettiva. Per favorire una maggiore fluidità del traffico, le compagnie di navigazione hanno incrementato il numero delle corse dei traghetti, sia su tre mestieri che sugli altri approdi cittadini. Nel caso di congestione del traffico e di lunghe soste degli automobilisti, è stato inoltre previsto il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e della Croce Rossa italiana per fornire supporto e generi di conforto ai viaggiatori. Passiamo allo sport, si è disputata un'amichevole tra l'Acregas e la Folgore, terminata per Serreti a zero, con una doppietta di Stefano. Le interviste a Mr. Lillo Bonfatto e al direttore sportivo Giuseppe Camarati. Mr. Lillo Bonfatto, quali indicazioni dopo il test match contro la Folgore? Positive, ho visto una leggera crescita rispetto all'altra amichevole. Quella precedente, ovviamente c'è ancora da smaltire carichi di lavoro, sono carichi importanti, quindi i ragazzi stanno rispondendo benissimo. Sono contento sinceramente anche del gruppo, perché è un gruppo di ragazzi che lavora con professionalità, questa è la cosa fondamentale. Oggi avevo chiesto di fraseggiare un po' di più e ci siamo riusciti, siamo stati bravi a riempire le linee intermedie, ci siamo riusciti. A tratti bene, a tratti meno bene, però è il giusto atteggiamento. Tante belle azioni, sei gol alla fine. Quanto conta il risultato in queste amichevoli? Conta, perché ai ragazzi diamo quella mentalità, intanto di fare gol è importante, poi non ne abbiamo preso e quindi è attrettanto importante, così cresce la mentalità. E io ho quello che chiedo ogni giorno ai ragazzi, perché la mentalità vigente arriva con le prestazioni, con gli allenamenti, avendo un atteggiamento sempre propositivo. Quindi siamo sulla strada buona, dobbiamo ancora crescere tanto, dobbiamo migliorare e quindi su questo punto di vista siamo contenti. Quali sono le tue certezze? Le mie certezze intanto sono che abbiamo un gruppo di veri uomini, ragazzi come dicevo prima disponibili al lavoro, al sacrificio e non si risparmiano mai. E quello per noi staff è fondamentale. Quanto fa piacere sentire l'applauso dei tifosi? Ma quello è piacere intanto già anche per l'amichevoli, che ci sono tante persone, per noi è una marcia in più, dobbiamo lavorare per la società, ma soprattutto dobbiamo lavorare per gli ultra, per gli appassionati dell'Agras. E spero con tutto il cuore, insieme allo staff e insieme soprattutto ai ragazzi, di regalare ogni giorno, come posso dire, emozioni, ma quello che non mancherà mai è l'impegno e la determinazione di cercare di vincere le partite. Quando vedremo la tovera Acragas? Ma ancora è presto, ovviamente passerà ancora del tempo, ripeto, ancora siamo in fase di preparazione, dobbiamo ancora lavorare tanto, però cercheremo di arrivare alla partita di giorno di Coppa, cercando di avere una condizione, non dico ottimale, perché non può essere, però avvicinarci a quella. Direttore Cammarata, l'Agras vince anche l'amichevole contro la Folgore per 6-0, hanno i margini di miglioramento del bianco-azzurri? Sì, il risultato onestamente interessa poco, i margini di miglioramento, è giusto che ci siano, vuol dire che stanno lavorando bene, e ho visto la squadra, mi piace, è molto dedita al sacrificio, consideriamo che facendo due ore di allenamento anche la mattina e con un caldo del genere, diciamo che non ci vuole tanto spirito di sacrificio per stare in campo e questo c'è tutto. Devo dire che è stata una buona sgambatura e andiamo avanti. Un gruppo che si coalizza sempre di più? Sì, sì, i ragazzi stando assieme ormai da otto giorni, perché noi stiamo facendo un ritiro, tutti gli effetti, siamo tutti in hotel, l'hotel a Grabello, e perciò è normale che un gruppo nuovo si inizia ad amalgamare e iniziano anche a capirsi a livello caratteriale. Altro ragazzo che ha delle certezze importanti su tutti Grillo e Tuccio, anche oggi in Gondon. Sì, anche se è un amichevole, per un attaccante fare gol è sempre importante. Diciamo che a livello fisico Tuccio e Grillo sono quelli un po' più brillanti anche per la fisicità che hanno, sono dei brevilini, magari stanno soffrendo di meno la preparazione, mentre gente un po' più di peso ancora si avvertono i carichi di lavoro. Doppietta per Gianmarco Di Stefano, un attaccante importante per la caratteristica. Gianmarco è un attaccante importante per noi, non per nulla è stato riconfermato. Gianmarco viene da un anno un po' particolari, ha avuto molti infortuni, quest'anno ha iniziato una preparazione fatta per bene, si sta facendo trovare pronto e sono contento per lui. Calcio e inclusione, oggi ha giocato il titolare ID, un ragazzo di colore, la caratteristica crede molto in questo giocatore. Sì, abbiamo detto nell'intervista precedente, ID è un ragazzo che ha dimostrato che può stare in questo gruppo, l'inclusione è una cosa bella, è un cavallo di battaglia del nostro patrone e noi siamo ben lieti di metterlo in atto, ma il ragazzo sta dimostrando di poter stare in questo gruppo e oggi partire nell'untici titolare. Tanti giovani in casa Acargas, giovani che anche oggi si sono messi in luce. Sì, nel secondo tempo avevamo 5 2006, 2007 in campo, sono contento perché stanno facendo bene, sappiamo benissimo che quest'anno è il primo anno per il 2006 dove c'è l'obbligo e noi diciamo che siamo messi bene. Occhio al mercato? Il mercato finquanto è aperto ci sembra un occhio che lo guardiamo con simpatia. La fontana di Bonamoruni diventa oggetto per il tormentone dell'estate, la carenza idrica e il ruolo importante, struttura cittadina, sono stati celebrati con una canzone e un video della benda grigentina ATT, Alcol Test Positivo. Vi proponiamo il video che ha già avuto un gran successo sui social. Piccoli stretti e grandi porticati, chiese barocche, santi dimenticati. Cultura e sogni di anni ormai passati, storie di vita, di uomini elogiati. Ma sui balconi vedo una signora, faccia coperta dalle sue lenzuola. Cominci a orlare battendosi le mani, non veni l'acqua da almeno tu si mani. Finni l'acqua, Babbo Namoruni, finni l'acqua, portatupiduni. Finni l'acqua, portatupiduni. Oh, 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 oh Città dei tempi sempre più affollata Turisti in giro con l'acqua imbottigliata Il caldo aumenta e aumenta anche l'azzura Ma questa è solo la capitale, la capitale della cultura Vinni l'acqua, babbona muruni, vinni l'acqua, portatupi duni Vinni l'acqua, babbona muruni, vinni l'acqua Portatupi duni Un ragazzo incontra una ragazza Passando attorno ad una lapazzà Cercano insieme rimedi e soluzioni Ma la speranza, ma la speranza E buona muruni, vinni l'acqua, babbona muruni, vinni l'acqua Portatupi duni, vinni l'acqua, babbona muruni, vinni l'acqua Portatupi duni, vinni l'acqua, babbona muruni, vinni l'acqua Portatupi duni, vinni l'acqua, babbona muruni, vinni l'acqua Portatupi duni E questo è tutto per TV1 Notizie di oggi Vi informiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia Sul canale 268 del digitale terrestre perché ha la Smart TV In streaming sul sito www.televideagricento.tv E il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia Alle ore 15 alle 20 con replica la mattina alle 9 E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata E vi diamo appuntamento all'edizione di domani